Vi voglio far vedere una cosa cult, perché Zalone... Una cosa? Una cult, una cosa cult, 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 una cosa cult, una cosa che lascia effetto... Sto vincendo i paladutti inglesi, non ce ne vedo più. No, ma come devo fare? Sto presentando un filosofo, un filosofo che aveva... Un veggente, perché Zalone in fondo è un veggente filosofo, aveva previsto tutto, aveva già insertato le orecchiette in un suo film, Cado dalle nubi, ma ve lo devo presentare, cosa dire? Lui, uomo del sud, si innamora di una ragazza del nord, il padre è un leghista. Beh, è successo pure a me. Come? Mi sono sposato con la Bergamasco. Eh, beh, lei non l'ha portato, le ho le orecchiette, perché lei... No, lei le mangia le orecchiette, al cucinare cucino io, però. E allora, guardate cosa succede da Zalone.